non vorresti avere la bontà di riflettere sulla questione che cosa farebbe il tuo bene se non esistesse il male e come apparirebbe la terra se ne sparissero le ombre le ombre provengono dai uomini e delle cose vuoi forse scorticare tutto il globo terrestre portandoli via tutti gli alberi e tutto quanto c'è di vivo per il tuo capriccio di goderti la luce nuda sei sciocco